Ciao a tutti, eccoci qua per il pensierio della sera. Questa sera e forse anche le prossime sere, perlomeno nella settimana santa soprattutto, vorrei accompagnarvi con la riflessione su alcune figure bibliche della passione evangeliche. Stasera vi voglio proporre di ascoltare, se vorrete, quando avrete tempo, la canzone di Fabrizio De Andrè, Il testamento di Tito. Molti di voi sicuramente la conoscono. Questa canzone, che fa parte di uno dei suoi primi album, La Buona Novella, che uscì addirittura nel lontano 1970, è una canzone dedicata a una figura molto bella del Vangelo, che è il Buon Ladrone, del Vangelo di Luca, perché solo lui ce lo racconta. Gli altri evangelici dicono che Gesù fu crocifisso in mezzo a due malfattori, punto. Solo Luca ci racconta che un malfattore, quello alla sua sinistra, lo insultava, l'altro invece, ecco, lo difendeva, diciamo così. Vi ricordate la scena? Lui dice al suo collega che stava morendo e gli stava chiedendo di salvarli, ma non hai vergogna di niente, come dire, noi ce lo meritiamo di morire così perché siamo stati due delinquenti. Ma lui, Gesù, non ha fatto nulla di male. E poi dice a Gesù la parola, una delle parole più belle del Vangelo, e cioè ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Gesù ricordati di me. Una preghiera brevissima e bellissima. Gesù ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E riceve una delle risposte più belle del Vangelo. Oggi sarai con me nel paradiso. Che spettacolo! Oggi sarai con me nel paradiso. Chi è il primo che viene salvato? Il primo salvato in assoluto è un delinquente. Noi lo chiamiamo il buon ladrone, ma non sappiamo se era un ladrone, se era un assassino. Era sicuramente un delinquente. Lo dice lui. Abbiamo sbagliato la vita. Lo dice, lo riconosce. E proprio per questo si salva, perché si è pentito e si è affidato a Gesù. È l'unica volta che in tutto il Nuovo Testamento c'è la parola paradiso, che vuol dire giardino. Bellissimo. Per un popolo che vive nel deserto, cos'è? Il posto più bello del mondo. Un giardino ricco di acque, ricco di piante, ricco di profumi, ricco di ombra, frescura. Il paradiso è il luogo della gioia. Ma qual è la gioia? Qual è il paradiso? Sarai con me. Questo è il paradiso. Essere con Gesù. Allora, prendendo lo spunto, però tanto da questa, anche da questa pagina del Vangelo, Fabrizio De Andrè, come disse il famoso Mollica, la voce più bella del Novecento, e io sono d'accordo, ha scritto questa canzone rifacendosi soprattutto ai Vangeli apocrifi, tutto l'album Buona Novella è preso dai Vangeli apocrifi, in particolare dal proto-Vangelo di Giacomo e dal Vangelo arabo dell'infanzia. In questi Vangeli ci vengono rivelati i nomi di questi ladroni. Secondo un Vangelo, lui si chiama Tito e l'altro si chiama Dimaco. Secondo un altro Vangelo apocrifo, lui si chiama Disma. Quindi comunque il San Disma è venerato sia dalla Chiesa Cattolica che dalla Chiesa Ortodossa. Il Testamento di Tito, questa canzone molto bella, cosa fa? Ripercorre tutti i comandamenti, dieci comandamenti perché questo ladrone li ha infranti tutti, ma li rilegge dal suo punto di vista. Per esempio, sentite cosa dice, adesso naturalmente letto è molto più brutto che cantato, no? Il quinto, il quinto comandamento dice non devi rubare e forse io l'ho rispettato, vuotando in silenzio le tasche già gonfie di quelli che avevano rubato, ma io senza legge rubai in nome mio quegli altri nel nome di Dio. Ma la cosa più bella è il finale. Il finale recita così il testo, ma adesso che viene la sera ed il buio mi toglie il dolore dagli occhi e scivola il sole al di là delle dune a violentare altri notti, io nel vedere quest'uomo che muore, madre, parla con sua madre, io provo dolore. Nella pietà che non cede al rancore, madre, ho imparato l'amore. Bellissimo, questo ultimo verso è meraviglioso. Nella pietà che non cede al rancore, Gesù che muore perdonando i suoi uccisori, madre, ho imparato l'amore. Speriamo in questi giorni difficili, questa settimana che ci attende, che è la settimana più santa dell'anno per noi credenti, che anche noi possiamo un po' imparare l'amore da Gesù. Ma ascoltatela su YouTube, il testamento di Tito. Ciao, ricordo che sabato farò il commento al Vangelo e domenica invece la benedizione delle famiglie della casa. Ciao, ciao!